Il mio padre è uno di loro Un supereroe? Sì, è andato via a salvare il mondo Quando finisce? Ti avevo detto di stare lontano da mia figlia Ma tu ci tieni tanto la tua amichetta, vero? Sì mamma, tantissimo Ma salvo! Sono tornato davanti a casa tua 9123 volte, una volta al giorno Ho pensato che tanto rimanere da soli è il destino di supereroe Ma ci picchia che ha petito Ma che fai la notte? Vai a correre Se proprio vuoi fare il supereroe cerca almeno di non farti male Non capisco Non fare lo scemo con me Che lo so che non sei scemo È che abbiamo scoperto il suo segreto Copperman Il mio nome è Copperman Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'info box e commentate sotto al video Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social YouTube, Facebook, Twitter e Instagram Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV Per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite Non perdetevi il nostro blog Blog.screenweek.it Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV Sono gratuite Ciao!